Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Nella diretta del Grande Fratello di stasera, i telespettatori scopriranno chi tra i sei concorrenti in nomination sarà il meno apprezzato, e quindi andrà al televoto eliminatorio del prossimo lunedì. Secondo i sondaggi apparsi sul web, a rischiare sarebbe l'attore Ciro Petrone, è lui il meno votato. Grecia Colmenares sarebbe invece la preferita del pubblico a casa. Sarebbero salvi anche Massimiliano, Giampiero, Letizia, Giuseppe e Vittorio. Questa volta non è eliminatorio, visto che nessuno lascerà la casa nella diretta di giovedì 9 novembre. Il concorrente meno votato sarà a rischio eliminazione visto che sarà il primo nominato nel prossimo televoto eliminatorio. Sono sei concorrenti finiti in nomination, Ciro, Giampiero, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano e Vittorio. Va ricordato che c'è ancora tempo per votare e salvare il proprio concorrente preferito. Secondo i pronostici la preferita di questo televoto è Grecia Colmenares. L'attrice venezuelana conquista il 31% delle preferenze, battendo il modello Vittorio Menozzi che si ferma al 23%. Ricapitolando, se queste percentuali venissero confermate, sarebbe Ciro Petrone il primo candidato all'eliminazione che avverrà nella puntata di lunedì prossimo. Va comunque precisato che si sta parlando di sondaggi e pronostici. Quindi nulla è ancora detto, visto che i pronostici potrebbero essere subvertiti, proprio come accaduto nell'ultima votazione. La volta scorsa, infatti, i sondaggi davano come papabile eliminata Angelica, invece poi è uscita definitivamente dalla casa Giselda.